Ed eccoci ritornati anche oggi, ben ritrovati sul 264 Cusano Italia TV, il canale televisivo dell'Università Niccolò Cusano. Siamo nel Cusano Group, ormai come sapete c'è la radio, Radio Cusano Campus e poi Tag24, il nostro sito online, il nostro portale, il quotidiano online da leggere e all'interno del palinsesto di Cusano Italia TV c'è, si fa per dire, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 16. Ogni giorno abbiamo un nuovo ospite da conoscere e chi sarà l'ospite di oggi? Scopriamolo. Nata e cresciuta a Teramo, che abbandona per scoprire l'Europa e il mondo. Doveva fare il medico, invece è diventata giornalista professionista, autrice televisiva e documentarista. Da oltre 25 anni Rai ha collaborato a trasmissioni televisive e radiofoniche come Linea Verde, Vittoria Biografie di Donne e Uno Mattina, dove si è occupata di cronaca, attualità ed esteri ed ora vive l'esperienza del nuovo portale dell'informazionerai.news.it. Ha prodotto documentari sulle identità territoriali ed è stata finalista al Davide Di Donatello nel 2009, con Diario di un curato dei montagni del regista Stefano Saverioni e con il suo documentario sulla guerra tra Iraq, Siria e Libra. La forza delle donne con la regista di Marco Bobo. Ha vinto molti premi dal Pieve di Cadore a Sicilia Madre Mediterranea nel 2008, fino al Vittoria Peace Film Fest nel 2017. Ha messo insieme nel tempo le sue passioni, le storie quotidiane e gli esteri, il racconto dei mondi lontani. Oggi a si fa per dire Laura Prati. Laura Prati oggi nel nostro salotto, dall'Abruzzo a Roma, passando per altre città importanti del mondo, era destinata a lavorare nella comunicazione, nella televisione. Laura, benvenuta. Grazie, buon pomeriggio. Destinata alla comunicazione forse sì, perché diciamo la mia prima, il mio primo impatto con il mondo della comunicazione e del giornalismo è stato con il libro di Oriana Farlaci, Niente e così sia, La guerra del Vietnam. Letto in un'età in cui forse le mie compagne leggevano altro, perché il libro è uscito nel 69, io l'ho letto credo nel 70 e avevo 12 anni. Quindi è stato un impatto notevole, però debbo ringraziare anche i miei genitori che mi permettevano di leggere tutto, qualsiasi cosa. E mi colpì moltissimo, mi colpì il modo di raccontare, mi colpì il fatto che fosse una donna in guerra che ci raccontava questi fatti che ci sembravano lontani. E poi ho sempre avuto la passione per la scrittura, ho sempre scritto, quindi era una cosa che avevo in me. Poi la vita ti fa fare altre scelte, alla fine del liceo mi sono iscritta a medicina, che è comunque un'altra mia grande passione, mi è rimasta dentro. Si è laureata in medicina? No, purtroppo no, purtroppo no. Perché? Perché la vita ti fa fare delle scelte, ma forse le scelte poi ti portano dove dovevi andare, perché bisogna anche prenderla così la vita. E quindi lasciata medicina ho iniziato un percorso che mi ha portato proprio dentro la comunicazione, ho fatto forse tra i primi corsi di relazioni pubbliche e comunicazioni in Italia con Enrico Cogno qui a Roma, quindi ho cominciato a frequentare Roma più assiduamente, mi sono lanciata nella comunicazione, ho fatto delle prime cose diciamo non prettamente giornalistiche ma anche di organizzazioni di eventi, tra cui uno a New York, molto interessante anche perché ti metteva in contatto con un mondo completamente diverso, dove anche il rapporto della comunicazione e del giornalista con la carta stampata, con i media in generale era diverso. È un rapporto che è cambiato tantissimo nel tempo, grazie alla tecnologia, quindi alle evoluzioni tecnologiche e sociali. Laura, hai conosciuto tante città, conosci molto bene il mestiere di giornalista, del lavoro della comunicazione, il lavoro televisivo, conosci Roma, conosci l'Abruzzo, se tornassi indietro sceglieresti Roma? Sì, sceglierei ancora Roma, è una città complessa, è una città che ha molte difficoltà, però è una città viva che ti offre tantissimi spunti. Un piccolo, diciamo, tarlo c'è perché nel 97 ero a New York, mi chiesero di rimanere e io un po' per paura perché mi sembrava eccessivo che chiedessero a me di rimanere, ho lasciato perdere. Forse quello è un po' qualcosa che mi è rimasto, però sicuramente Roma è la città dove mi sento a casa, dove... Roma le permetteva di incontrare i genitori con una maggiore frequenza, se avesse scelto New York non avrebbe potuto vedere i genitori spesso. La vicinanza con i genitori è forse determinante nelle scelte che facciamo, Laura? Allora, in questo sono molto controtendenza, anche perché ho avuto genitori, mio padre è morto presto, mia madre invece è riuscita a vivere tantissimo e pienamente la sua vita e ne sono contenta. I miei genitori mi hanno sempre spinto ad essere molto autonoma. Ricordo ancora che a 14 anni mi hanno mandato da sola in aereo in Australia. Certo c'era la hostess che ti controllava, però erano molto aperti ed è anche vero che io infatti ho letto libri che le mie compagnie di scuola non leggevano, quindi mi hanno spinto sempre verso l'esterno, ad essere libera, ad essere indipendente. Una ragazza che ha 14 anni va in Australia effettivamente non è così frequente, tanto per cominciare perché il viaggio verso l'Australia è un viaggio importante, un viaggio lungo, impegnativo. Questo sì, ma è determinante il fatto che oggi è quasi normale. Io ci sono andata nel 1972, noi dobbiamo fare anche questa differenza. Io ho avuto la fortuna, perché lo dico sempre, di essere figlia della generazione del dopoguerra, di una generazione che ha vissuto i cambiamenti epocali del XX e del XXI secolo. Quando mi capita, io racconto sempre il fatto che io sono nata in un periodo in cui c'era, quando andava bene, un telefono per casa e forse c'era un televisore per quartiere. Oggi io uso lo smartphone quasi come un millennial e questo ti fa pensare come è cambiato il mondo, come poi è cambiato anche il nostro mestiere dei giornalisti grazie agli smartphone, ma è una grande fortuna perché tu puoi, come dire, sei passata attraverso la storia. Ecco, la sensazione è che sei passata attraverso la storia, attraverso i cambiamenti che sono stati il 68, purtroppo sono stati gli anni di piombo, vissuti direttamente perché io ero all'Università all'Aquila durante il rapimento Moro e si pensava che fosse nel lago della Duchessa e quindi noi all'Università avevamo digos, polizia, c'era di tutto. Eh sì, sono stati anni comunque molto difficili, molto duri e molto difficili. Lei, Laura, ha vissuto tutta la trasformazione sociale a partire dal secolo scorso fino ai giorni nostri, la trasformazione tecnologica, storica, erano altri tempi. Non lo so se è intelligente chiedere se si stava meglio ai suoi tempi o se si sta meglio oggi, però certamente è un passaggio importante, è un passaggio storico importante, sia per il lavoro che per le donne, per le persone, anche le persone sono cambiate. Ma è cambiato veramente tanto, ora meglio o peggio? Non lo so, non lo so. Ogni epoca ha i suoi pro e i suoi contro. Fare un raffronto non si può fare, sono mondi completamente diversi. Io ricordo che mia madre poteva fumare in pubblico perché c'era mio padre. Quindi passiamo da questo a quella che è la nostra libertà oggi. Non c'era una legge sulla parità in famiglia, è arrivata solo negli anni 70. Noi della mia generazione abbiamo fatto le battaglie per l'aborto, per la legalizzazione. È stato un momento di grande mutazione. Ora, tutto questo poi uno se lo deve portare dentro e forse lo dovrebbe utilizzare al meglio, deve servire per la propria crescita, non per dire stavo meglio prima o adesso, ma deve essere il fondamento di quello che si fa. Certamente aver vissuto quel periodo ti permette magari di guardare e di analizzare meglio le cose. Si ha un bagaglio di memoria diverso e forse questo è mancato nell'ultimo periodo, secondo me abbiamo un po' tralasciato la nostra memoria, ma perché è una società che corre a mille e dimentica. Sì, perché corre a mille, cioè la notizia che oggi è notizia fra un... ma anche fra un'ora non è più notizia. Mentre prima, voglio dire, c'erano solo i giornali di carta stampata, c'erano due canali... C'era un rapporto diverso col tempo, un rapporto diverso col tempo, Laura. Oggi tutto corre velocemente, è una notizia che in questo momento è notizia, tra un'ora non è più così, viviamo esperienze che dimentichiamo dopo pochi giorni, dopo poche ore, abbiamo un rapporto diverso col tempo. Prima forse si viveva in maniera più piena il lavoro, la propria vita, oggi invece è tutto così, tutto liquido, tutto veloce, veloce e liquido. Siamo, come dice il buon Bauman, in una società liquida, questo è evidente, però prima quelli erano i tempi. Per venire a Roma ci volevano dall'Abruzzo quattro ore di macchina, adesso ci metti molto meno, no? E' così, oggi con un'ora i nostri figli sono a Bruxelles, sono al centro dell'Europa. Quando io spesso sento, ah ma i nostri figli lavorano fuori e sembra che abbiano fatto chissà quale traversata, ricordo che ai miei tempi i nostri lavoravano veramente fuori ed era un viaggio arrivare in Germania. E invece oggi non è più così. Oggi invece non è così ed è una grande famiglia. Ecco, c'è anche questo cambiamento che secondo me è importante, il fatto che ci sono meno confini sotto alcuni punti di vista, poi ce ne sono molti più altri perché questa frenesia, questo mondo che corre non ti permette neanche di approfondire, questo vale anche per le notizie. Noi spesso diamo la notizia per la notizia perché c'è in quel momento quel fatto, ma poi l'approfondimento, la ricerca, perché nasce quella cosa o non perché non c'è. E rispetto al passato tutti commentano e tutti sanno tutto, tutti condividono notizie anche false, Laura. Il grave problema delle fake news nel mondo della comunicazione non può non essere preso in considerazione. Insomma, un'epoca veloce, superficiale e un po' leggera per certi aspetti. Poi la leggerezza nella vita serve, però dovrebbe essere strumentale al percorso. Il punto è questo, internet è diventato non solo il villaggio globale di cui parlava McLuhan, ma è il nostro mondo. oggi molta gente vive sui social, si è perso il contatto anche personale, quindi si vive sui social. Dopodiché c'è tutto il discorso della disinformazione e misinformazione che è diventato anche un elemento per combattere guerre, vincere elezioni, sopraffare il nemico. Una volta si uccideva con la pistola, con le armi. Oggi si può uccidere attraverso i social, perché è così. Attraverso le fake news. Attraverso le fake news. Noi infatti adesso, per esempio, in Rai, nel portale Rai News, dove lavoro io, abbiamo un gruppo che fa fact-checking, proprio perché la guerra soprattutto ci ha portato ad avere maggiore attenzione a quello che arriva, perché può arrivare di tutto. Questo perché anche nel nostro lavoro c'è una trasformazione. Noi oggi col telefonino possiamo fare tutto. Una volta tu dettavi il pezzo al telefono, al giornale. Adesso tu sei in un posto, prendi il telefonino e immortali una scena. Ma se tu la immortali semplicemente, non c'è nessuna contestualizzazione. Quella scena può essere letta in qualsiasi modo. E dipende da chi la posta e come la posta. Nell'informazione questo è importantissimo, perché se tu non sai da chi proviene, perché è stata fatta, che contesto c'è, e i lettori e i telespettatori non lo sanno, quindi bisogna indirizzarli anche verso le notizie vere. Cosa vuol dire fare fact-checking, Laura? Allora, fare fact-checking è una cosa complessa, che richiede un gruppo, perché lavorano ingegneri informatici, chi lavora, chi va nel dark web, chi ha contatti con le fonti, quindi il giornalista in linea generale. Vuol dire che se una notizia ti arriva da un tweet di un signore che si presenta come professore associato, non lo so, qualsiasi cosa, la prima cosa da capire è se questo professore esiste veramente. Se esiste l'università. Dopodiché fare una ricerca anche di geolocalizzazione. Cioè quel video è geolocalizzato precisamente dove è avvenuta la cosa o invece viene da un'altra parte? Quindi è complesso. È una verifica, una verifica delle fonti. Fatta con più fonti e con più strumenti, perché non basta sapere che la fonte è attendibile, cioè che quel professore esiste veramente, adesso ho fatto un esempio, ma che quel posto esiste, che quella è la geolocalizzazione esatta, quindi richiede moltissimo. Poi nel dark web viaggia la qualsiasi, viaggiano le armi, viaggiano purtroppo la pedofilia, viaggia qualsiasi cosa. E quindi è necessario appurare le fonti e dare notizie certe, reali. Laura, lei conosce la RAI bene, adesso lavora per RAI News, giornalista per RAI News, ma ha lavorato anche per altre trasmissioni televisive, conosce l'azienda, conosce la televisione. Anche la televisione oggi non è più quello che era una volta. Ma indubbiamente, io lavoro in RAI da oltre vent'anni, sono passata per programmi di diversa natura, da linea verde a uno mattina, passando per programmi di turismo, ho fatto la radio, quindi ho visto anche l'evolversi in questi anni del sistema non solo televisivo, ma di come poi viene raccontato il paese, perché ci sono i notiziari, cioè i TG, i famosi TG che noi abbiamo, ci sono gli approfondimenti, ma ci sono anche quei programmi che sono chiamati di infotainment, come uno mattina, la vita in diretta, cose similiari, dove si mette insieme la parte più leggera, diciamo più... L'informazione. L'informazione con l'intrattenimento. Il problema che riguarda tutte le televisioni è che tendenzialmente l'informazione è stata trasformata in intrattenimento e si è cercato di far sì che lo studio televisivo diventasse una piccola arena, dove esiste il sì e il no. E poi esistono quelli che litigano. Ecco, allora io lo dico adesso al di là della mia posizione, posizionerai come Laura Prati, dico che si può fare una televisione diversa, dove ci sia alto e basso messo insieme, dove ci sia un'informazione certa, attendibile e non necessariamente c'è il nero e il bianco. Quando qualcuno mi dice, però il grigio è brutto, io ricordo sempre che il grigio è fatto da sette colori, non è un colore solo. Certo. Quindi il grigio aiuta a capire il nero e il bianco, poi uno sceglie il nero e il bianco, però devi aiutare a capire perché è nero o bianco. Non si può... Io vedo la differenza sicuramente... Non si può risolvere con un'aggressione. Non con un'aggressione, non... Adesso il caso ultimo di cui si parla tanto, del grande fratello, di questa estromissione, perché c'è stato, come dire, un moto di... Si è voluto comunicare le proprie ansie, le proprie paure e quindi si viene presi come diversi, per esempio. E questa è una cosa che ha scatenato all'interno della casa del grande fratello e poi sui social un dibattito. Ma chi ha perso, chi è dovuto uscire dalla casa è la persona diversa, perché noi non abbiamo gli strumenti per capire. Né per accogliere persone che non sono come noi, che non sono identiche a noi. Io ho intervistato ultimamente Giorgio Minisini, il campione europeo di sincronizzato e devo dire che questo ragazzo mi ha dato una grande lezione. Perché lui ha raccontato logicamente la sua storia, un ragazzo che ha sei anni decide di fare il nuoto sincronizzato, che era a pannaggio delle donne, perché esiste una discriminazione anche al contrario. Era a pannaggio delle donne e quindi mi ha raccontato che alle medie veniva chiamato sincrofrocio, veniva bullizzato, ma lui dice io ero convinto di quello che volevo fare, ero tranquillo e nel tempo ero così sicuro della mia sessualità, mi ha detto, che quello è diventato loro pensavano di farmi del male, invece no, niente. Ma la cosa bella è che lui nuota in coppia con Arianna Sacripante, che è una ragazza down ed è campionessa mondiale di sincro. Quindi l'aver patito sulla sua pelle la diversità lo ha portato a vivere la diversità dell'altro e a gareggiare nel mondo con questa ragazza. E vincere la sfida con se stesso e con gli altri soprattutto. Dimostrando al mondo che la diversità è relativa. E vabbè, però Laura è un viaggio di consapevolezza importante che non tutti sono in grado di compiere. Poi diversi, bisogna capire anche rispetto a che cosa si è diversi e a chi si è diversi. Se magari rispetto ad una persona che nella vita ha avuto tutto, non si è mai sacrificata, ha sempre ottenuto tutto e subito, mi verrebbe da dire anche che tristezza perché non conoscono il senso del sacrificio. Ma poi sai, il diverso è sempre in funzione di uno stereotipo che la società si dà. Impone, la società impone degli stereotipi. E allora, ed è questo un po' anche quello che sento come necessità nel mio lavoro, nel raccontare la realtà che è fatta di mille sfaccettature. Quindi una realtà, forse perché ecco, venendo dall'epoca delle battaglie per l'aborto, per i diritti delle donne, il concetto è quello che noi non dobbiamo precludere. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ma non possiamo precludere. La politica aiuta la società a pensare in un certo modo, a muoversi in un certo modo, a definire gli stereotipi. Laura, lei adesso ha citato il termine aborto, che è un termine cruciale anche per il nostro periodo, per il presente, per il periodo che viviamo. Quindi alle volte se le persone escludono i diversi, come dicevamo prima, è perché la politica ha imposto un'omologazione. Sì, la politica, soprattutto negli ultimi vent'anni, diciamo, ha imposto un dress code alla società. Ed è anche un po' mortificante. E manca, manca, questo io continuo a dirlo, manca l'informazione corretta. Cioè nel momento in cui si dice dobbiamo fare una legge per rendere, per far sì che chi non vuole abortire lo possa fare, devo dire, quello che mi è risultato strano è che nessuno ha detto che non esiste una legge così. Perché? Perché noi abbiamo una legge per chi lo vuole fare. Esatto. Ma non è che... Ma è un gioco di comunicazione, Laura Prati, credo che sia questo la strategia utilizzata. Cioè loro preferirebbero che non si abortisse, ma io credo che anche le donne vorrebbero evitare l'aborto, perché comunque è un grande trauma, solo che ci sono circostanze in cui è inevitabile. Allora, io torno a ripetere, mi sono battuta per questa libertà. Per avere... Oltretutto è una questione di parità anche di diritto. Cioè una donna deve scegliere. Deve scegliere. Deve poter scegliere, deve poter scegliere anche nel rispetto di se stessa, non di quello che è, diciamo, l'immagine che viene data della società. Non possiamo continuare a pensare ad una donna, in questo io sono nettamente femminista, una donna che deve stare a casa, ma anche perché la società è cambiata. Oggi, a meno che non ci sia qualcuno che guadagni un X che permetta di poter vivere senza lavorare, si lavora in due, in una famiglia. Certo. No, ma poi stare a casa è noioso, al di là di tutto. A parte quello. Ma non tocchiamo questo tasto. Ma diciamo, nel concreto è questo. È un paese, ma il mondo è un mondo a maggioranza femminile. Non vedo il perché ci si debba ancora ancorare a stereotipi, che sono stereotipi dello scorso secolo, forse anche di prima. Sì, è un po' limitante. È limitante. E comunque, sì, è vero, è una strategia di comunicazione, ma questo fa pensare che se esiste questa strategia di comunicazione è perché c'è un terreno fertile che recepisce e che non è, come abbiamo detto, siccome siamo in un mondo che vive velocemente, non ha memoria e dimentica tutto quello che c'è. Per cui alcune affermazioni possono passare tranquillamente senza che ci si ricordi del percorso fatto. Laura, lei ha sempre scelto per sé e a parte rimanere a New York, ha sempre fatto tutto quello che voleva fare. Me lo dirà dopo la pubblicità. Noi ci fermiamo per qualche minuto.